La replica dello studio del Duca a Palazzo Ducale di Gubbio è una vera opera d'arte. A distanza di anni da quell'operazione è ancora maggiore la convinzione di aver operato per il meglio per valorizzare il palazzo, restituirgli il cuore artistico e vitale e aver contribuito a ridare un'anima ad uno dei luoghi più significativi della nostra città. Le parole del presidente onorario della Fondazione Carispe Perugia, Carlo Colaiacovo, suggellano la presentazione della guida Gubbio Studio Allo Replica a cura di Vincenzo Ambrogi, realizzata da Maggio Gobino con la collaborazione della Fondazione Carispe Perugia sotto legida del Comune e del Palazzo Ducale. L'iniziativa si è svolta nella sala convegni della Casa di Sant'Ubaldo, altro gioiello architettonico recuperato dall'opera di mecenatismo della Fondazione Perugina, guidata dall'imprenditore Ogubino. La copia dello studio Allo del Duca, il cui originale è al Metropolitan Museum di New York, venne realizzato dai maestri banisti Ogubini Minelli e inaugurata nel 2009 alla presenza dell'allora ministro dei beni culturali Sandro Bondi. Alla presentazione di sabato della guida sono intervenuti il sindaco Stirati, il presidente del Maggio Gobino Lucio Lupini, il presidente onorario della Fondazione Carlo Colaiacovo e il direttore di Palazzo Ducale, la signora Paola Mercurelli Salari. Ne ha parlato con l'autore Enzo Borsellino, docente di museologia dell'Università Roma 3. A chiudere c'è stata l'applaudita testimonianza di Giuseppe Minelli della ditta esecutrice dello studiolo. Vincenzo Ambroggi è l'autore di questa guida, una guida di questa opera d'arte perché così va definita la replica dello studiolo che a distanza di secoli i mastri e banisti Ogubini hanno dimostrato che si può ripetere un capolavoro come quello del Duca. La guida si chiama proprio per questo Gubbio studiolo replica perché per replica intendiamo il lavoro fatto dallo stesso autore, è come se gli autori non fossero morti, è questo che è importante sottolineare, l'ha voluta chiamare replica proprio per questo motivo, che altrimenti si sarebbe dovuta chiamare più propriamente copia, ma invece replica perché è fatta dallo stesso autore. Una replica che è un valore aggiunto oggi di questo palazzo che dobbiamo dire fino a qualche anno fa era un po' bistrattato, vogliamo dire, rispetto al panorama culturale eugubino. Questo non è niente, secondo me il palazzo dovrebbe diventare ancora più importante con la soluzione di un grande problema, raggiungere in maniera comoda il palazzo Ducale. Questo lo lancio a tutti quanti. Quanto abbiamo faticato all'epoca per poter convincere tutto e tutti che era un'operazione valida che potesse essere reinserito all'interno della sua struttura naturale. Ci siamo riusciti, oggi qui in Italia è completo, è stato fatto con la stessa tecnica dell'epoca e naturalmente bisognava dare corpo alla possibilità di avere una guida che consentisse la lettura di queste tarzie che ci sono in questa importante struttura ricostruita. Io ritengo che oggi con questo lavoro di Ambrogi si può dire che chiunque venga a Cubbio con pazienza può leggerlo, capirlo, ammirarlo e gustarlo. Si stanno facendo anche tante altre iniziative che sono sicuro daranno l'uso alla nostra città e daranno la possibilità di essere ammirati in modo diverso dal passato. Quando iniziamo a fare un percorso di valorizzazione di questa importante struttura riuscimmo dopo un paziente lavoro a convincere l'amministrazione comunale, all'epoca Coracci Sindaco, riuscimmo a convincere la sovrintendente che all'epoca c'era la sovrintendenza alla Galleria Nazionale, da cui dipendeva questa struttura di Cubbio, affinché potessero essere ritrovate, ripescate, ripulite, risistemate tante opere che il Comune di Cubbio aveva nei magazzini che potevano avere valenza espositiva. Ciò è stato fatto con un forte contributo dalla Fondazione e oggi quel contenitore vuoto dell'epoca, un contenitore più o meno pieno, gustabile, visibile e sicuramente un'attrazione importante per i nostri turisti. È un'acquisizione molto importante per i turisti che vengono a Palazzo Ducale perché hanno così la consapevolezza dell'importanza, dello spazio dello studiolo che altrimenti non lasciava capire la sua funzione con le pareti completamente nude e neanche rifinite perché erano ovviamente coperte dai pannelli linei. Si comprende l'importanza del luogo e attraverso le tarsie è possibile anche ripercorrere e ricostruire la vita di Federico da Montefeltro attraverso il complesso linguaggio simbolico del monumento che oggi la guida che si va a presentare di Vincenzo Ambroggi aiuta meglio a comprendere per i visitatori che potranno soffrire di uno strumento sia in italiano che in inglese. Un'operazione lunga, complessa, che è durata sette anni e che ha comportato oneri, sacrifici sotto l'aspetto dell'impegno delle persone e anche economici. Adesso, a distanza di tempo, mancava qualcosa che indicasse tutta l'operazione come era avvenuta e suggerisse nella visita del Palazzo Ducale gli elementi essenziali riferibili allo studiolo, a questo luogo di meditazione che eleva verso le arti. e quindi con Vincenzo Ambroggi abbiamo detto realizziamo questa guida e quindi nel tempo, anche a distanza di qualche anno, però ci siamo riusciti e oggi è la conclusione. Siamo soddisfatti di questa pubblicazione perché crediamo che copra un vuoto e soprattutto che dà finalmente un'idea di tutta l'operazione e di quello che può rappresentare lo studiolo. Grazie a tutti!